Allora, siamo lungo la ciclabile che da non vi ricordo più dove, guarda, arriva, no, passa per Grotta Mare, è lunghissima, l'abbiamo presa da non so dove, da dove l'abbiamo presa? Da 8 km fa, davvero? Ah è vero, da 8 km fa, all'inizio di Cupra Marittima, hai ragione, dove l'appo finalmente ha trovato un'amica, ha fatto un partitore a bocce, che hai vinto? No! Ah beh, vabbè, non sei esperto, loro erano degli esperti, buongiorno, viva gli aquiloni, tiri, e c'è un bel freschino.